Nuove strumentazioni e nuovi software ad implementare il reparto di ostetricia e ginecologia nell'ospedale di Portogruaro. Dall'azienda General Electrics arrivano due nuovi ecografi di ultima generazione, considerati in ambito medico un'eccellenza per la diagnostica precoce. Questi ecografi ci permettono di fare un salto di qualità per quanto riguarda la diagnostica, non soltanto in ostetricia ma anche in ginecologia, in quanto si passa dall'ecografia bidimensionale all'ecografia tridimensionale. Quindi ci permette l'ecografia 3D di avere delle informazioni superiori sullo studio di sistemi, come il sistema nervoso centrale, la colonna vertebrale, molto utile nello studio e nella diangese della spina bifida, del sistema cardiocircolatorio, del cuore e degli arti. Sarà quindi uno strumento prezioso per la diagnostica in fase prenatale, ma la qualità più avanzata sarà proprio quella offerta dalla nuovissima visione 4D. Il 4D rendering è un passo avanti dell'ecografia 3D che ci permette di vedere i movimenti del feto durante la sua vita in utero, quindi valutare quelli che possono essere movimentazioni all'interno dell'utero, molto utile anche per le gravidanze gemellari che ci permettono di valutare alcune situazioni anche a livello di questo tipo di gravidanze. Un salto di qualità per l'ospedale di Portogruaro, ma l'esperienza della maternità non si ferma proprio qui, offrendo dei servizi all'avanguardia anche nelle fasi più avanzate. Garantiamo delle stanze con un sistema di albergaggio elevato, stanze a due letti, un blocco parto costituito da tre sale travaglio parto. Ciascuna stanza è dotata di un proprio bagno all'interno del quale la coppia, la donna, può muoversi liberamente. Sono stanze anche di dimensioni importanti che permettono anche alla donna di acquisire delle posizioni alternative per controllare il dolore. Un'esperienza a 360 gradi anche per i papà, i quali potranno passare questi momenti accanto alle proprie compagne. Il prediligere la fisiologia del momento del travaglio fa sì che ci sia un maggior coinvolgimento del papà su quello che è il travaglio parto, aiuta la futura mamma su quella che è la gestione del dolore con tecniche di massaggio. Il gruppo di ostetriche è molto brava e istruiscono le proprie donne su quello che è l'utilizzo di oli per il massaggio con coinvolgimento proprio del papà e quindi con notevoli vantaggi anche per la coppia in un momento così delicato quale quello della nascita del loro figlio. Con l'acquisto di nuove strumentazioni destinate a far raggiungere l'eccellenza nazionale all'ospedale portogluarense ci si interroga ancora, quindi, sul destino dei due punti di ostetrice e ginecologia nell'AS10, ma sembra non esserci alcun dubbio. È previsto che nella nostra azienda ci siano due punti nascita, quello di Portoguaro e quello di San Donà, così sarà fino all'ospedale unico quando sorgerà l'ospedale unico.